Buonasera ragazzi, buonasera a tutta la bandiera, buonasera i suoi modi qui, ascoltate su Buonasera Schermann, ascoltiamo San Gergesi, chiammati, la previa Avanti, mi ha fatto il mishapolo, a scuole Chilius e San Gergesi, chappe, chappe Il mio comodino treva, si emoziona sempre Mi sembra una gioia in mezza, ci sono Appena finiti di pensare qua ci riposiamo un pochettino E poi direzione Forriano, Bernardo, Bernardo, Guerrero, Lecanto, Tappagappa Buongiorno, Giardino, Scihillie Corolla, e noi vogliamoấtler, ci sono Cuore la croquette Grazie a tutti. Grazie a tutti.